oroscopo del giorno sabato primo gennaio 2022 ariete amore in questo primo giorno del nuovo anno avrete la luna attiva e questa è una notizia ottima le cose infatti potrebbero andare decisamente bene e anche il vostro umore sarà alle stelle un sabato tutto da godere in amore lavoro situazione interessante sul lavoro le energie non mancheranno di certo toro amore questa sarà una giornata serena e quindi potrete iniziare il nuovo anno in modo tranquillo con le persone vicine questo a prescindere dal tipo di rapporto che avete e dunque ci saranno delle opportunità anche per i single lavoro niente di che sul posto di lavoro ma da domani potrebbero arrivare delle novità abbastanza interessanti gemelli amore per l'amore non ci saranno grandi novità per il primo giorno del nuovo anno e potrete godervi il capodanno tranquillamente chissà che nelle prossime ore non arrivino già delle nuove emozioni speciali lavoro manca davvero poco e potreste ricevere finalmente una notizia buona e positiva ci vorrà comunque impegno cancro amore ancora stelle buone e l'umore non sarà per niente male godetevi questo inizio anno anche perché da domani le cose potrebbero già peggiorare sul fronte dello stato d'animo e avere conseguenze nei rapporti lavoro per il lavoro sarà una buona giornata ma d'altronde è il primo dell'anno e potreste rilassarvi un po leone amore miglioramenti per l'amore e potrete godervi questo primo giorno del nuovo anno in maniera tranquilla e serena con i vostri affetti tutto bene con il partner così come per le nuove conoscenze dei cuori più solitari lavoro sabato buono per chi lavora anche durante le festività ma già da domani potrebbero iniziare ad esserci degli imprevisti vergine amore un po' come ieri anche questa giornata sarà abbastanza nervosa un primo giorno dell'anno tutt'altro che piacevole da passare in compagnia dovrete provare a stare sereni anche se sarà molto difficile trattenere le tensioni lavoro sarete piuttosto agitati anche per quanto riguarda i progetti di lavoro e i vari impegni professionali bilancia amore il primo sabato dell'anno sarà tutto da vivere insieme al partner ma anche con una persona nuova se siete soli le emozioni non mancheranno ma finalmente potrete essere spensierati e felici pronti a godervi tutta la giornata lavoro pochi impegni per questo potrete stare tranquilli e prendervela con più calma scorpione amore l'inizio del nuovo anno sarà decisamente buono e tutto da vivere le stelle saranno ottime e pronte a favorirvi in questa prima giornata non avrete problemi e sarete sereni insieme alle persone che avete al vostro fianco lavoro non si potrà dire proprio la stessa identica cosa per il lavoro dove qualcosa inizierà ad andare storta sagittario amore delle stelle per oggi soprattutto la luna ogni cosa andrà bene in questa giornata e gli equilibri di coppia non mancheranno di certo la passione potrebbe accendersi pure tra i single lavoro molti di voi saranno liberi ma già dalle prossime ore potrebbero arrivare buone novità capricorno amore per le coppie e i single che vogliono intraprendere una nuova conoscenza questo giorno di festa del primo di gennaio non sarà ricco di novità nonostante tutto potete trascorrerlo nel modo migliore possibile tra gli affetti lavoro tutto bene sul lavoro per chi ha ancora degli impegni da svolgere la situazione sarà abbastanza tranquilla acquario amore questo inizio 2022 sarà veramente molto bello per voi e infatti vi sentirete bene da soli e con gli altri ottimo aspetto quindi per qualsiasi tipo di rapporto ci sia all'attivo anche se il rapporto amoroso ancora non esiste lavoro giornata rilassante sarà che molti di voi oggi avranno il sabato libero da impegni pesci amore giornata da dimenticare per molti di voi purtroppo la giornata non andrà così bene e con il partner potrebbero esserci incomprensioni e problemi nemmeno per i single sarà un giorno molto facile da gestire lavoro vi sentirete stanchi e per questo sarà difficile concentrarsi ma è pur sempre festa se il video ti è piaciuto metti mi piace registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti grazie a tutti